Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Il Rotary Club Riva del Garda ha in programma un progetto di riqualificazione della chiesetta di Santa Pollinare a Pravi. La piccola chiesa è attualmente chiusa al pubblico e viene aperta solo su richiesta e in alcune rare occasioni. Al suo interno vi sono degli importanti affreschi, gran parte dei quali risalenti al XIV secolo. Il progetto di riqualificazione del Rotary Club prevede la messa in sicurezza della chiesetta con l'installazione di videocamere di sorveglianza e la sua fruibilità per turisti residenti in alcuni periodi dell'anno. Qual è il progetto del Rotary Club Alto Garda per la valorizzazione della chiesa di Santa Pollinare a Pravi? Come sapete il Rotary è un'associazione che si occupa di fare principalmente dei service umanitari e sociali. Li facciamo da soli come club, li facciamo anche assieme ad altri club vicini, trentini. In questo caso, siccome siamo sul lago, collaboriamo anche con i club del lago di Peschiera e Salò de Senzano. In questa occasione ogni anno si svolge un forum di questi tre club del lago e il tema quest'anno, guidato dal club di Peschiera, è quello di recuperare un sito importante, storico, archeologico. Noi di Riva del Garda, del Clebrotte di Riva del Garda, su indicazione del sommolago e della professoressa Maria Luisa Viaro, abbiamo deciso di occuparci di questa chiesa. È una chiesa che è bellissima, nella sua semplicità, perché è una chiesa semplice, ma che ha all'interno degli affreschi molto importanti. Purtroppo la chiesa rimane chiusa e viene aperta su richiesta. Abbiamo visto che ci sono migliaia di turisti e di persone qui attorno, ci sono giovani che vanno a fare free climbing d'estate, passano davanti. Io stesso sono passato davanti mille volte e non mi sono accorto della chiesa. È una chiesa che vale la pena che sia rivalutata dal punto di vista della visita culturale, oltre che religiosa naturalmente. Quindi il progetto che noi presentiamo è quello di una fruibilità della chiesa. Quindi abbiamo individuato la messa in sicurezza della chiesa come affreschi, quindi delle telecamere e degli allarmi per poter essere protetti da eventuali vandalismi. Vandalismi ce ne sono stati nel passato tanti, le iscrizioni che si trovano sugli affreschi sono vandalismi del passato. Quindi una sicurezza di questo aspetto. Un progetto di informazione culturale, quindi con dei pannelli di informazione storico-culturali. E naturalmente in collaborazione con la parrocchia di Arco vediamo di la possibilità che la chiesa possa rimanere aperta per un periodo di giornalieri, specialmente l'arco di fruizione estiva o primavera-autunno. Questo è fondamentalmente il nostro progetto. Professoressa, ci puoi tracciare una breve storia della chiesa? Le prime informazioni che noi abbiamo risalgono agli anni 1000, dove qui c'erano degli eremiti che abitavano una piccola cappella posta alla destra orografica del Sarca, chiamata Santa Polinare in onore del Vescovo di Ravenna e Santa Polinare. Questa pian piano è stata aperta al pubblico e è una chiesa splendida perché gli affreschi risalgono, gli affreschi dell'interno risalgono al 1300-1400. Sono importanti perché rappresentano una maniera di dipingere molto lineare, molto essenziale, santi, immagini di martiri, ma soprattutto questi personaggi che sono delineati in maniera splendida. Molte volte è stata sconsacrata, altre volte è stata riconsacrata e poi in questa parte esterna che presenta questa bellissima ultima cena veniva data ospitalità ai pellegrini che passavano qua per entrare nella chiesa e questo altare è stato fatto probabilmente per loro. Però in momenti particolari era anche deposito di animali e quindi le condizioni della chiesa erano anche piuttosto brutte. Alla fine però dell'Ottocento e inizi del Novecento si sono incominciati i restauri e pian piano mantenendo questa struttura al massimo abbiamo una chiesa veramente valida, splendida da visitare.